ciao benvenuto in questo video ti voglio parlare di una importante novità e sono anni che cerco di ho creato mi sono registrato su una piattaforma che si chiama tipe che sarebbe come patreon io sono reduce dall'influenza dicevo come patreon che permette a noi sviluppatori diciamo creatori di contenuti insomma di ricevere una piccola ricompensa su mensile sui contenuti che carichiamo sul canale youtube hai visto insomma fino adesso ho fatto oltre 600 video e quindi tu hai questa possibilità di darmi un piccolo contributo mensile di 2 euro potendo scaricare due pdf del contenuto della lezione o di armonia improvvisazione o delle canzoni dei brani per chitarra sola ovviamente è un materiale enorme giustamente cioè chi gli interessa una cosa che un'altra è ovvio che pagando questa piccola cifra è ovvio che può scegliere tra queste se non ti interessa l'improvvisazione scarichi le canzoni la diciamo la scheda descrittiva per suonare la canzone in bdf oltre al video su youtube quindi c'hai due euro questa possibilità mensile 6 euro puoi scaricare illimitatamente tutto cioè sia i video che sia che faccio nel mese se sono 8 ai 8 lezioni da scaricare più quelle dei 600 video precedenti che vengono pubblicate sul sito ti metto il link in descrizione tip punto com quindi pure quelle precedenti quindi con 2 2 euro un caffè due schede con 6 euro tutte le schede illimitate quindi non sei per nulla obbligato come per le cose via email non sei obbligato a chi non se lo può permettere anche se una miseria ma è pochissimo e noi lavoriamo decine di ore al giorno per offrire questi contenuti comunque chi non se lo può permettere il canale resta così com'è con i contenuti gratuiti i video gratuiti e ti invito a visitare questa pagina per i sviluppatori per i creatori di contenuti su nella descrizione noi ci sentiamo al prossimo video un saluto da giambiero ciao ciao